bentornati nella sala giochi di 80 voglia di arcade ace a tenervi compagnia anche oggi 10 minuti anche un po di più oggi vi faccio vedere una cosa veramente speciale prima però ricordatevi di iscrivervi al nostro canale youtube se ancora non l'avete fatto ci trovate sempre con il nome 80 voglia di arcade cliccate sul mi piace sul video mi raccomando dopodiché mettete un commento così almeno vi rispondiamo sempre parleremo parleremo sicuramente insieme e poi mandate il video ai vostri amici se vi è piaciuto dopodiché cliccate sulla campanella non vi dimenticate così sarete sempre avvisati delle nuove uscite direttamente da youtube passate a trovarci poi sui nostri social instagram twitter e tiktok dove ci trovate sempre con lo stesso nick 80 voglia di arcade venite lì vi mettete un mi piace anche lì ci seguite c'è una rubrichetta che si chiama un gioco in 45 secondi la trovate anche negli shorts di youtube mi sembra che vi ho detto tutto tanto ormai se ci seguite già lo già sapete insomma c'è il nostro sito internet nuovo www.80 voglia di arcade punto it adesso abbiamo anche un canale discord ci abbiamo un serverino la sera quando facciamo le dirette su twitch e su tiktok giochiamo insieme e quindi ci ci potete raggiungere anche su discord quest'oggi come vedete già dal video non c'è un gioco ma c'è un consigli per gli acquisti mettiamo che vogliate giocare ai vostri giochi anni 80 la vostra sala giochi in giro al lavoro su un autobus su un treno ovunque qualcosa che sia veramente portatile ce l'abbiamo si chiama miu mini attenzione ve la faccio vedere subito adesso poi strada facendo ve ne parlo guardate qua questa è la grandezza guarda questa è una pennetta usb e questa è la custodia possiamo togliere la pennetta usb rigida la custodia guarda che carina qui ci va il cavetto usb c per la ricarica e questa è la consolina vedete guarda qui c'è il volume tasti r1 r2 l2 l1 qui si accende qui c'è la sd usb c è uscita cuffie guardate che carina guardate quanto è bella certo questa è una mia mano effettivamente per me è un po piccolina però vi posso dire che fa il suo effetto accendiamo teniamo premuto angolo di visuale come vedete ottimo è veramente ottimo ok andiamo a vedere un po il menu ci sono le impostazioni le applicazioni giochi i favoriti andiamo a vedere i giochi arcade atari 2006 atari links cps 1 cps 2 cps 3 game boy advance game boy siga master system sony playstation 1 genesis nes neo geo e snes ce ne sono altri ce ne sono parecchi altri che io ovviamente ancora non ho messo vi faccio vedere però subito come gira andiamo sugli arcade football champ fighting socia golden axe green beret ci sono tutti e ci sono veramente tutti facciamo un ghost and goblins guarda qua faccio sentire anche l'audio guarda che bella guarda che bella ghost and ghost guarda che bella che è poi vi spiego anche quanto costa perché il quanto costa è una bella sorpresa non ve lo aspettate quanto costa guarda come è fluido anche l'audio è perfetto l'audio è perfetto smorto subito però io cerco di avvicinarmi il più possibile senza farlo sfocare ok vi faccio vedere un altro close content quit retro arc allora vi faccio vedere quello che tanti aspettano playstation 1 final fantasy medieval resident evil tech and 3 ovviamente il tempo di caricamento non è nemmeno malvagio per una consolina così piccola state guardando quanto ha impiegato vero ci ha impiegato zero a caricare devo ricordarmi anche tutte le combo io state capendo guardate come è fluido in emulazione playstation 1 c'è bisogno di altro certo per me che ho le mani un po' grandine ovviamente non è proprio comodissima però se vi dovessi dire è portatile sì assolutamente sì è molto portatile anche troppo però se cercate una cosettina che veramente la portate a casa adesso vi dico il prezzo ve lo dico dopo facciamo le conclusioni più tardi capite che robetta usciamo close content quit retro arc vi faccio vedere non so un neo geo meta slug dai meta slug l'audio eh sentite l'audio com'è emulato perfettamente ovviamente con le cuffie viene meglio guarda 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 che bellezza senza trucco senza inganno vi ho fatto vedere anche i tempi di caricamento pensate che è veramente non saranno neanche 5 centimetri di consolina guarda neanche 5 centimetri no 5 ci sono aspetta eh 1 2 3 saranno 6 centimetri e mezzo in altezza e 4 o 5 in larghezza veramente anzi ora la misuriamo guarda ho il metro così vi faccio rendere proprio conto delle misure guarda ci fermiamo close content vi faccio vedere le informazioni i system information ovviamente c'è un software loro proprietario però basato su linux infatti c'è retro arc come cpu c'è un arm v7 processore arm v7 revisione 5 c'ha due core quindi è dual core c'è un gamepad integrato che in questo caso si chiama dingux gamepad unix vedete frontend OS linux v4.9 retro rating level meno 1 memoria 100 mega in questo caso noi stiamo utilizzando una schedina adesso ve la faccio vedere mi pare questa sia da 64 giga volevo farvi vedere anche le impostazioni luminosità siamo a 10 su 10 potete cambiare il colore la lingua il volume ci sono altre info del dispositivo 128 mega 32 giga scusate non da 64 c'è una schedina da 32 giga ne abbiamo occupati 10 quindi ce ne entra di roba ce ne entra allora andiamo a vedere nelle applicazioni package manager questi sono tutti gli emulatori amstrad cpc che io ho disabilitato arcade atari 2006 5200 e 7800 l'ho disabilitati l'atari links bandai su fami turbo wonders one color cps 1 2 e 3 colego vision amica amica fairchild channel f gce vectrex magnavox odyssey 2 l'intellivision megadac i giochi dos msx nec il turbo graphics e il super graphics nintendo potete scegliere più di un emulatore io in questo caso ho messo game bat e gpsp fc fc um invece per il nes c'è lo snes come vedete altri emulatori nintendo pico 8 philips scum vm bellissimo per le avventure grafiche neo geo cd neo geo pocket siga 32 siga cd siga game gear genesis master system msg 1000 zx spectrum playstation tic 80 e guadara al supervision quindi comunque di sistemi ne emula veramente tanti andiamo a spegnerla ok qui c'è la schedina come avevo detto si questa è da 32 giga che dire questa è un una bellissima soluzione portatile veramente portatile ve lo faccio rivedere veramente piccolina però si fa giocare c'è questo tasto funzione che è un dito a questo ritorna indietro questo è per mettere questo è mappato come coin questo è mappato come start almeno sul mame quattro tasti più gli altri quattro qua dietro che comunque se giocate su playstation 1 si fa giocare la cosa importante vi devo dire quanto costa sapete quanto costa neanche 70 euro avete sentito bene siccome è uscita la nuova che è un po' più grandina si chiama miu mini plus la mini viene via a 69 euro avete sentito bene soprattutto su aliexpress tanti la vendono usata anche a 50 euro la trovate quindi usata è un affarone prendetela assolutamente ne vale la pena ci potete giocare a tutto quello che volete non ha il wifi quindi non c'è il netplay però però per il prezzo sinceramente è da avere è da avere controindicazioni se avete le mani grandi è scomoda parecchio scomoda volevo vedere sai cosa quanto misura guarda prendiamo il metro aspetta si è vista la pubblicità occulta della maglietta c'è problema tanto non mi pare andiamo a vedere allora è larga 6 neanche 6 e mezzo ammazza però ci prendo io a occhio con le misure mamma mia 9 e 3 spessa neanche 2 1 e 7 no come oggettino ragazzi ve lo dico è fenomenale fenomenale se cercate una consolina portatile che vi emuli non solo il MAME ma avete visto anche tutto NeoGeo Nintendo Mega Drive Sega Amiga è una consolina che difficilmente ad un prezzo del genere troverete qual è il suo antagonista sicuramente Lambernic ma Lambernic ha uno schermo molto più grande e sinceramente un po' più comodo da tenere in mano il 351 il 351 anche il 351 non ha il wifi cioè ha il wifi ma se non ci mettete batocera non c'è il netplay qui c'è possibilità di mettere un firmware customizzato io non ve lo consiglio perché comunque tenete se non sapete cosa fate ve lo ripeto in tutte le in tutte le registrazioni che facciamo in tutti i video se non sapete cosa fate non fatelo perché poi non sapete come tornare indietro e non se ne esce e avete buttato 50-60 euro quanto quanto la pagate anche con il firmware suo stock va benissimo veramente va benissimo cercatela si trova su subito non ho viste parecchie su ebay soprattutto adesso che è uscita la plus che è un po' più grandina questa si trova usata perché tanti se la vendono vi danno dentro la schedina vi danno la custodia vi danno il cavetto usb c per la ricarica non c'è l'alimentatore per la ricarica però col cavetto la potete attaccare dove volete e sicuramente è un best buy adesso a questo prezzo se cercate una consolina che vi faccia giocare a tutti quei giochi della vostra infanzia senza dover mettervi lì a configurare niente è già tutta pronta funziona accendete funziona e allora MIU Mini V2 cercatela così sicuramente fa il caso vostro la batteria quanto dura ovviamente se usate playstation 1 si scarica un po' prima se tenete la luminosità a manetta se tenete l'audio a manetta se ci attaccate le cuffie ovviamente finisce prima però 5 ore io le ho fatte tutte di filate me la sono portata in spiaggia condizioni di luce pessime quindi luminosità l'ho dovuta tenere tutta al massimo 5 ore le ha fatte sono tornato a casa ero partito col 100% sono tornato col 15 14-15% se non tenete la luminosità al massimo se non giocate a playstation ma magari giocate solamente al mame o comunque se non gli fate fare i salti mortali penso che è una giornata non continuativa ma una giornata la coprite 7 ore le fa tranquillamente detto questo noi settimana prossima ci vedremo con un altro un'altra piccola recensione ve lo prometto vi faccio vedere un po' di consoline portatili fateci sapere che cosa ne pensate se ce l'avete soprattutto e se vi piacerebbe acquistarla poi magari vedo se riesco a lasciarvi qualche link di dove andarla a prendere vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se ancora non vi siete iscritti cliccate sul mi piace mandate il video ai vostri amici mi raccomando che ci serve di crescere in questo momento mettete i commenti iscriveteci noi rispondiamo veramente a tutti dopodiché cliccate sulla campanella altrimenti vi perdete le nuove uscite che youtube non vi avvisa se non mettete la campanella passate a trovarci anche sui nostri social instagram twitter e tiktok dove ci trovate sempre con lo stesso nick 80 voglia di arcade e dove trovate la rubrichetta che si chiama un gioco in 45 secondi questi giorni non sta uscendo però adesso lo facciamo riuscire promesso ci trovate anche la sera novità facciamo le live in diretta sia su twitch che su tiktok giochiamo insieme giochiamo in netplay se vi volete unire siete i benvenuti vi aspettiamo quindi anche la sera e c'è il canale il server discord sempre si chiama 80 voglia di arcade e il nostro sito www.80voglia di arcade punto it ci vediamo giovedì prossimo sicuramente con qualcosa di nuovo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti